Un cordiale saluto di una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Paldarno e Firenze Sud, 2 km di coda per lavori tra Valdichiana e Monte San Savino, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma, 3 km di coda per ripristino di un incidente tra Rezzo e Monte San Savino. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Prunita. Sulla regionale 69 Valdarno, senso unico alternato per lavori, al km 1,700 nel comune di Belago. Vi ricordiamo che per la giornata di oggi sono possibili disservizi al trasporto pubblico locale per uno sciopero nazionale che interesserà la tramvia e gli autobus di Autolinea e Toscane. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!